forza isaac andiamo adesso faccia anche la pala crociera su una bella navetta ciao dottore non c'è tempo da perdere l'amador ha sparato dove stai andando mi sa che non sta tanto bene ora il dottore aspetta ci siamo ancora noi a terra ferma vedete quando cazzo sei salita mi spiace isaac non potevo lasciarglielo fare immagino che dovrei ringraziarlo per aver trovato il marchio ci siamo riusciti anche senza l'aiuto della USM Valor a proposito grazie per avermi aiutato a trovarlo il mio dipartimento cercava questo luogo da molto tempo quello che Kain non sapeva è che questo disastro è stato opera del governo l'intero pianeta era un esperimento il marchio la divina reliquia creato dall'uomo lo hanno creato esaminando il vero marchio circa 200 anni fa quello era un vero manufatto alieno trovato sulla terra l'hanno scoperto studiato assimilato poi lo hanno portato su Aegis 7 e lo hanno attivato e tu hai visto i risultati tutti quegli abomini hanno sigillato il sistema e questa è stata la decisione migliore poi è arrivata la CEC che ha iniziato a fare a pezzi il pianeta l'esperimento era ancora attivo Kain aveva ragione sull'unicamente il marchio può bloccarla ma a questo ora non importa vero? il marchio ora è mio e questo intero sistema può andare all'inferno per quanto vale hai fatto un ottimo lavoro Isaac ci vediamo o forse non e mo? Isaac sono Nicole devi aiutarmi devi aiutarci adesso sono sono nella sala di comando di volo fai presto Isaac te prego ti amo tocco succo bisogna oss gettii o c'è ascosateur ascoltate ora eccola meg Noto all'inizia dic ball reg ecco Busan commen asci Iya Mammo! Isaac! Sei proprio tu! Pensavo non ci saremmo mai più rivisti Sono... Oddio, mi dispiace Mi dispiace per ciò che ho fatto Non ho mai voluto farti del male Ma ora devi rimetterlo a posto, Isaac Puoi pilotare la navetta a distanza da qui Rendici di nuovo uno Rendici di nuovo uno Ho capito, eh, non so mica sordo E vai Dove sono i comandi? Eccoli qui Soccoletta! Torna qui! Ma che cosa diavolo stai facendo? Stai commettendo un grosso errore Non è finita Ehi, ehi, ehi Capsula sganciata Equipaggio della vetta USG09 Ripeto, capsula sganciata dalla vetta Non importa, non sfuggirà al suo destino Nessuno Ma Kratos ce l'ha fatta E te non lo conosci E te lo conosci? Programmerò la navetta Così scenderemo sulla colonia Ci siamo quasi, Isaac Vai, ora, sali sulla navetta Ci vediamo là Eh, ci vediamo là Tanto finché non va via quel cacchio di attendereli non posso muovermi Eh, aspettiamo che si fermi sta navetta Uffa, dai, muoviti Cacchio, proprio l'inventario balò pieno Cacchio, proprio l'inventario balò pieno Oh, oh No, scatto, mi attacco l'ultimo momento No, scatto, mi attacco l'ultimo momento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dov'è il dottore? No, è rimasta la gamba Comunque, lasciamo alla cuiva Che non la voglio neanche come souvenir Ecco, come souvenir c'è il sasso rosso Che basta e avanza Oh, oh Ora sono io il capitano, la governo io sta navetta Oh, oh Stai facendo la cosa giusta, Isaac Ora siamo insieme, come abbiamo sempre desiderato Sapevo che saresti tornato da me Ora nulla potrà fermarci Capitano Isaac, se permetti Ok, capitolo 11, soluzioni alternative, completato Ok Non rimane altro che un solo capitolo Ok, ci vediamo al capitolo finale Del remake di Dead Space Ciao a tutti